ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video oggi vi voglio dare degli spunti per quanto riguarda gli acquisti con i saldi e mi sto riferendo in modo particolare a delle scarpe da donna in questo caso di prima donna prima di iniziare come sempre vi ricordo solamente se vi fa piacere di supportare il mio canale iscrivendovi e se vi va seguitemi anche negli altri due social ora iniziamo subito così vi mostro cosa vi consiglio di prima donna ho quest'inquadratura perché sono qua sul letto e quindi mi viene meglio nel mostrarvi la scarpa che ho acquistato poi vi farò vedere quella che ho chiesto di procurarmi sperando di riuscire a recuperarla e vi do i miei consigli per quanto riguarda degli acquisti ponderati che comunque difficilmente possono cambiare di moda anche se come vi ho detto più volte per quanto mi riguarda sia abbigliamento che anche scarpe per me non è importante la moda del momento ma è importante indossare ciò che mi piace io indosso delle cose che possiedo da tantissimi anni a prescindere dall'andamento della moda comunque vi voglio citare prima donna non è ovviamente un video collaborazione però vi voglio citare prima donna per un motivo sono stata nel negozio lo sapete io possiedo tante scarpe di prima donna prima donna fa scarpe sia in pelle che in ecopelle siccome ho visto dei modelli validi li voglio condividere semplicemente con voi allora il primo modello che vi mostro questa è la sacca che mi ha dato una ragazza gentilissima che mi seguo ormai da tantissimo tempo e con la quale si è instaurato un rapporto d'amicizia ed è una delle poche che io ritengo delle persone estremamente gentili che ti invogliano all'acquisto anche se in quel momento magari faresti a meno di quel prodotto però la gentilezza paga allora io mi sto riferendo a questa scarpa che purtroppo ecco l'unica pecca è che una scarpa in ecopelle però vi devo dire la verità che io tante scarpe in ecopelle di prima donna che durano nel tempo cioè non mi si sono rovinate e ne ho una blu molto simile come taglio in pelle che mi si è subito bucciata diciamo leggermente la punta non mi va di buttarla perché mi piacciono tantissimo come tipologia di scarpe l'unica cosa che mi frenava era questa forma di tacco ma tutto sommato anche se va verso l'interno così lo trovo molto carino non è sottilissimo stiamo parlando di un 9 cm scontato al 70% vedo se qua riesco a dirvi il prezzo queste scarpe venivano 69 euro e 99 quindi mi sembra di averle pagate 20 euro o 20 e 99 qualcosa del genere la cosa che mi piace tantissimo innanzitutto la comodità di questa c'era sia il 37 che il 38 e viene fatta sia in panna che in nero lo sconto maggiore ce l'ha in questo colore il 70 per cento mi sembra che la nera sia scontata al 50 per cento io normalmente calzo il 38 però vi devo dire la verità che col fatto che il tacco non è bassissimo per i miei canoni il 37 mi tiene il piede più fermo questo questo tronchetto che si chiama ankley boat ha una vestibilità stupenda io non amo le scarpe che mi stringono alla caviglia per quanto ho una caviglia sottile non mi piace come taglia dopo vi faccio vedere un modello che mi è piaciuto tantissimo tra l'altro in vera pelle sempre scontato al 70 ma non mi piace perché rimane dritto poco poco più alto mi tende a tagliare la gamba quindi esteticamente anche a livello di comodità per la mia tipologia di gamba non è il massimo comunque questa è la scarpa prendo anche l'altra ha la cerniera nel retro questa è una cerniera che rimane tipo rose forse e sul davanti e così queste scarpe io me le immagino di già con un jeans skinny o anche se fosse un jeans crop comunque che non arrivi all'altezza dello stivaletto comunque sono secondo me un passepartout e sinceramente per questo prezzo cioè 20 euro è un investimento che si può fare tranquillamente sono delle scarpe a fare il mio modaiole che si sfruttano tantissimo a tal proposito parlando appunto le sto appoggiando qua perché comunque non ci ho camminato e sono pulite c'è un modello che ho provato e vi metterò qua al lato ed è un modello secondo me molto bello è un anche i bot nero in pelle è un 8 centimetri ed è scontato sempre al 70 per cento questo stivale alla parte di davanti e la fibietta che appoggiata sopra che rimane brunita è in vera pelle mi sembra che venisse intorno ai 30 euro tutte le scarpe che vi mostro quella che viene di meno intorno ai 17 euro la maggior parte intorno ai 20 euro quindi un ottimo rapporto qualità prezzo ripeto se fosse stata più bassa anche se dritta l'avrei presa ed ero dubbiosa però come vi ho detto per quanto riguarda le scarpe ci deve essere la comodità se non c'è la comodità e c'è l'affare per il prezzo un tempo le avrei acquistate adesso no l'altro modello che mi è piaciuto tanto ed è quello che ho chiesto alla ragazza appunto se riuscisse a procurarmelo è un modello color oro che rimane laminato tra l'altro un tacco 5 e mezzo 5 tra il 5 e il 6 adesso non ricordo sembra che venisse 17 euro se riuscissi a trovarle posso abbinarle alla borsa di michael kors poiché oro possiedo solamente il sandalo di michael kors quindi avrei un tronchetto e il sandalo e quella borsa la potrei sfruttare non solo d'estate ma anche d'inverno poi qua vi metto la foto di questi stivaletti chiamati sebre anclibot e ci sono in sei colorazioni vengono scontati sempre del 70 per cento per chi è amante dei colori come me e ama abbinare tutto può investire prima di tutto sul nero su colori un po più neutri e un po più sfruttabili avete la possibilità di avere svariati colori e di fare molteplici abbinamenti io quelli non li ho presi per il tacco perché io cado in continuazione perché corro sempre e quindi volevo un qualcosa che mi desse più tranquillità io sono molto più comoda con scarpe sportive scarpe basse però ogni tanto piace anche a me mettere un minimo di un tacchetto e a tal proposito mi collego ai decoltè decoltè che sono comunque dei classici che si possono avere tranquillamente e si possono utilizzare in molteplici occasioni il primo che vi mostro è un decoltè che mi ha colpito per il colore che è un colore verde militare questo decoltè è alto 10 centimetri circa un pellame che sembra quasi vernice io la verità non amo la vernice il decoltè classico molto elegante sia come tacco che come punta ovviamente non per le amanti della punta tonda o della punta quadrata ci sono tantissime punte quadrate però l'unica punta che a me non entusiasma neppure la tonda però è la punta quadrata che quest'anno c'è in grossissime quantità diversi brand fanno questa tipologia di punta però come vi ho detto prima io seguo l'andamento della moda ma indosso ciò che visivamente trovo che mi slanci di più e mi stia meglio anche per questo motivo io escludo sempre la punta tonda a meno che non sia una scarpa sportiva però per quanto riguarda i decoltè non amo le punte eccessive come ci sono state parecchi anni fa però il decoltè classico leggermente affinato in punta io lo trovo di un'eleganza unica soprattutto portato con dei jeans stretti o anche con i leggings in ecco pelle tipo quelli che indosso oggi sempre per quanto riguarda i decoltè ho trovato altri tre decoltè veramente veramente modaioli e che riprendono dei brand un po più blasonati e costosi come per esempio valentino borchia a me piacciono tantissimo soprattutto le borchie fatte in questa maniera qua vi metto la foto e abbiamo un decoltè e poi che ha le borchette sul davanti un altro decoltè che ha l'aceto alla caviglia e passa anche nella parte centrale dorso del piede sempre con le borchette trovo che questi due modelli siano due modelli molto particolari che rendano anche ricercato un outfit semplicissimo monocolore ovviamente associato all'abbinamento sempre dell'oro quindi accessori oro borsa oro e via dicendo poi il classico decoltè tipo quello che vi ho mostrato prima in verde però questo ha l'aceto alla caviglia per le persone come me che hanno una problematica tipo la mia io ho un piede molto sottile l'unica cosa che negli anni insieme alle mani mi rimasta sottile come numero in linea di massima il mio numero è un 38 vi dico linea di massima perché potrebbe starmi il 37 anche se ultimamente a parte questa scarpa qua io porto il 38 questa l'ho scelta 37 solo e unicamente perché mi giocava leggermente il tallone e anche se questa è una scarpa che io utilizzo con tutta tranquillità d'estate ed inverno mi sentivo più sicuro il tallone e poiché sono caduta pochi giorni fa volevo un qualcosa che mi sostenesse di più la caviglia tutto qua però ero molto indecisa tra il 37 e il 38 purtroppo il 37 e mezzo non lo fanno altrimenti sarebbe stata senz'altro la mia scelta sarebbe stato un giusto compromesso comunque questa scarpa che vi sto mostrando ha l'aceto alla caviglia quindi io normalmente i decoltè infatti ne possiedo uno blu sempre di prima donna non li acquisto se non hanno il laccetto alla caviglia perché tendo a perderli il 37 mi va troppo giusto e il 38 va bene come lunghezza di piede però per la mia tipologia di piede tendo a perderlo e per quello che vado a ricercare il laccetto quindi ve l'ho voluto segnalare sempre per questo motivo queste scarpe sono scontate del 50 per cento ma stiamo sempre parlando di una scarpa che non costa più di 30 euro un altro stivale che vi voglio segnalare è lo stivale con i taschini io possiedo quello di gael che l'avevo anche pagato tanto anche se l'avevo preso in promozione questi qui rimangono alti sotto il ginocchio e vengono fatti in panna e in nero vi metterò sempre la foto qua al lato imitano dei brand di lusso ovviamente non hanno niente a che vedere con i brand tipo prada o comunque brand che costano molto di più però a parer mio sempre scontati del 70 per cento mi sembra che venissero sempre sotto i 30 euro trovo che sia rapporto qualità prezzo soprattutto per il tempo che c'è adesso il freddo anche qua da noi è arrivato ma in altri posti c'è la possibilità di coprirsi e di essere stabili qualora ci fosse neve o ghiaccio ed è per questo che ho pensato non solo a questo stivale ma anche a questi boot che fanno in panna e in nero che sembrano quasi dei boot da montagna per chi ama la tipologia di scarpa e soprattutto per chi vive in zone dove nevica io trovo che si possa essere caldi comodi e sempre alla moda mi sembra che questi due che vi sto mettendo qua al lato costino intorno ai 17 euro e stiamo parlando di uno sconto del 70 per cento ovviamente per un amante dei camperos dei texani in generale non potevo non citarvi questi due modelli che vengono fatti da questa altezza qui quindi che arrivano alla caviglia all'incirca con tutte le frange che io lo sapete ultimamente sto amando vengono fatti in color cognac e in nero ma se non ricordo male vengono fatti anche più alti in altre colorazioni trovo che però questa altezza sia un po diversa e un po più particolare anche questi scontati del 70 per cento la mia carellata di questi sconti dal 50 al 70 per cento di prima donna termina qua io spero che vi abbia fatto piacere questa mia condivisione secondo me adesso si fanno veramente degli affari quindi ho voluto sbirciare ho guardato per me e voglio dare una mano anche a voi ho guardato anche su internet i modelli che vi ho mostrato sono tutti presenti fatemi sapere se c'è qualche scarpa che vi ha colpito video termina qua spero di fare in tempo nel editarlo e di metterlo oggi io ora vi lascio al mio outfit e poi ci rivediamo per i saluti e vi mostro in velocità i pochi accessori che porto oggi e rieccomi qua oggi c'è un freddo incredibile sono vestita a strati questo cardigan è un cardigan vecchio che avevo preso da tradivarius se non ricordo male ed è identico anche se dal video che vi ho mostrato sembra leggermente diverso però vi assicuro che la stessa gradazione di colore anche perché io sono maniacale e poi sopra questo cardigan che inutile dirvi che il mio cardigan preferito quanto riguarda gli accessori ho rimesso il mio bracciale di raspini come anello o quello rerum ho sempre questo in argento con la pietra e quello di pandora a bitono per quanto riguarda gli orecchini miei due cerchietti e in questo lato qui orecchini di pandora in rose qui ho i miei soliti bracciali quindi non ve li cito mi è venuta in mente una tipologia di video che a me piace e comunque ho in mente di portare come reel ho già girato un video stamattina quindi crearvi degli outfit soprattutto adesso che ci sono ancora dei saldi quindi un outfit completo entro i 100 euro è quello che voi vedrete per primo e ve lo metterò domani se riesco sul canale e anche su instagram niente a questo punto il mio video termina qua io spero comunque di avervi tenuto compagnia di avervi dato degli spunti ho cercato tipologie un po' di tutti i gusti l'unico genere che non ho messo magari è un anfibio e non ho messo uno stivale un po più classico per persone leggermente più classiche o comunque molto importante ma più semplice però guardate secondo me da prima donna è impossibile che una persona non trovi una scarpa o uno stivale che non sia di proprio gusto perché penso che sia uno dei pochi brand che non esclude niente fa talmente tante tipologie e per tutti i prezzi che secondo me è impossibile non trovare una scarpa che piace almeno per me è così il mio video termina realmente così e io vi do appuntamento sempre se dio vuole a domenica ciao a tutti e buona serata